ciao a tutti ragazzi ben ritrovati allora oggi parliamo di tattica di campo perché è la sfida alla sferona ragazzi dietro l'angolo è vero che oggi pomeriggio verrà presentato zaccaria è anche vero che questo sarà l'ultimo video che mi vedrete con i capelli così perché alle 14 presentano zaccaria e alle 14 io cambio colore dei capelli quindi di zaccaria parleremo verso sera con dei capelli inediti e ho già paura di quello che potrebbe accadere e comunque zaccaria è un buon acquisto come vi dicevo nella sua analisi tattica non è assolutamente un fenomeno non abbiamo preso pogba non abbiamo preso cantè non abbiamo preso pirlo ma abbiamo preso un giocatore che mancava all'interno della juventus che è una novità all'interno della juventus poi ne parleremo man mano che andremo avanti con il video ed è un'esigenza tattica che massimiliano allegri richiede da anni e finalmente è riuscito ad ottenere in zaccaria quindi un giocatore che andava preso a poco essendo in scatenza di contratto un giocatore che mancava alla rosa della juve un giocatore che ci permetterà anche di valorizzare gli altri centrocampisti come arthur locatelli meccenni ed eventualmente pure anche rabbio mettetevi comodi andiamo subito ad iniziare un mi piace per supportare questo lavoro di creazione di contenuti il mio secondo me secondo me allegri sta lavorando in questa direzione per portare questa juventus con vlaovic e zaccaria e senza kuluseschi ramsey bentancur e vabbè federico chiesa per forza di cose voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti ma prima di scrivermi la vostra ascoltate bene che cosa ho da dire perché ci saranno delle risposte in anteprima ai vostri commenti quindi piano con le dita sulla tastiera ascoltate prima la mia posizione e poi ovviamente il vostro pensiero è super gradito ma cercate di rispondere a quello che vi dirò nei vari punti che andrò a snocciolare vi lascio subito al video vi ricordo che in descrizione c'è il link per scaricare one football sponsor di questo canale e inquadrando questo qr code potrete scaricarlo direttamente sul vostro cellulare lo inquadrate con la fotocamera e andiamo a vedere se queste indicazioni tattiche che sto dando in vista anche del verona dove locatelli comunque sarà squalificato dove zaccaria potrebbe giocare vlaovic non lo so ci informiamo su one football leggiamo un po tutto lì e poi vediamo se queste indicazioni saranno valide anche in futuro allora io parto da un presupposto e cioè che qualche tempo fa quando si fa male chiesa vi dico ragazzi con questa rosa della juve senza chiesa io un concetto di difesa 3 di 352 non lo escludo a priori dicendovi che io non sono amante del 352 vi ho fatto un video intero su questa cosa non sto a ripetermi eventualmente andatevelo a rivedere per capire alcuni concetti chiave e qua vi metto la formazione che la juventus potrebbe schierare oggi con il 352 con vlaovic e zaccaria perché 352 perché andremo ad esaltare i giocatori secondo le loro caratteristiche tecniche nei ruoli a loro più congeniali come potete vedere c'è una difesa 3 fatta da chiellini bonucci ed elite che sarebbe veramente figa da vedere nella realtà perché fino adesso abbiamo vista poche volte una difesa 3 effettiva formata da questi giocatori pellegrini e quadrado sugli esterni zaccaria locatelli e meccenni con zaccaria equilibratore che stacca locatelli e meccenni nella posizione di mezze ali effettive abbiamo visto che sia locatelli che che meccenni sono due mezze ali molto molto offensive sono dei giocatori che riescono anche a far gol locatelli l'abbiamo visto con la juve con la nazionale meccenni è un anno e mezzo che continua a essere il centrocampista più in gol per la juve da tanti anni a questa parte e poi dibala e vlaovic vicini attaccati a formare una coppia che scoppia che funzionerà assolutamente per quanto mi riguarda è un'unione di caratteristiche tecniche veramente importanti quindi questa è una cosa che io mantengo in tanti mi hanno detto però luca occhio perché sui ricambi poi dietro non sei così coperto è vero come vero che il posto di chiellino potrebbe prendere pure danilo oltre che rugani e quindi secondo me l'idea del 3 5 2 non va scartato a priori però capisco quello che mi dite e soprattutto andremo a rivoluzionare tutto quello che abbiamo fatto fino adesso cercando di accantonare la difesa 4 rispolverare la difesa 3 quando in realtà c'hai anche ulteriori problemi però perché è importante interessante la difesa 3 o comunque questo schieramento perché ti libera gli esterni puoi avere una grande spinta per gli esterni è una grande spinta anche per vie centrali grazie all'inserimento appunto dei centrocampisti oltre che il dialogo tra dibale vlaovic e il cross ovviamente diventano interessanti per vlaovic le due mezzali che si buttano dentro e quadrato e pellegrini sono giocatori importanti tra l'altro ognuno andrebbe a crossare con il suo piede giusto ok il suo piede comodo piede forte e quindi non lo so io non la escludo a priori però c'è da ricordarsi che già in questa stagione e l'abbiamo visto tante volte nelle serie tattiche allegri è andato a formare una difesa 3 senza avere una difesa 3 e lo abbiamo visto compiro l'anno scorso ma soprattutto abbiamo visto tante volte con allegri in passato una partita su tutte che andremo a riesumare anche all'interno di questo stesso video e tante partite all'interno di questo campionato quindi andiamo avanti lasciando stare la difesa 3 e passiamo alla difesa 4 e cerchiamo di capire con vlaovic come cambiano le cose io parto da qui ok ecco qua ci siamo ora calma prima di scrivere calma non focalizzatevi tanto sulla disposizione non focalizzatevi su secondo me potrebbe giocare desciglio al posto di pellegrini quadrado alto e danilo basso morata lì no attenzione concentriamoci soltanto su una cosa perché qualcuno mi ha detto allegri una disposizione di questo tipo non la farà mai noi in realtà l'abbiamo vista a cardiff ok la vedremo tra poco ma soprattutto quello che voglio farvi brillare nella testa sono questi undici calciatori e poi vi spiegherò perché ricordatevi questi undici calciatori poi è ovvio che possono esserci delle modifiche che ne so il terzino sinistro può essere desciglio può essere alexandro il difensore centrale può essere chi è lì nel posto uno tra bonucci d'élite può esserci arthur perché un altro di quelli che è difficile lasciare fuori concentratevi su questi undici passiamo a cardiff questa era la formazione ormai resa nota notissima con cui allegri ha raggiunto la finale di cardiff poi purtroppo sappiamo come è andata però come potete vedere non si è fatto troppi scrupoli a inventarsi manzukic esterno di sinistra come giocatore di equilibrio ora morata non ha le stesse caratteristiche ma c'è da dire che nemmeno meccani ha le caratteristiche di fare il quadrado alto nemmeno vlaovic ha le caratteristiche di win vabbè di bala e di bala poi c'è stata un'evoluzione del calciatore negli anni pianice che dira non sono locatelli e zaccaria ma lo stesso alexandro non è pellegrini lo stesso danni alves non è quadrado quindi ci sono delle caratteristiche differenti negli undici ma l'idea il principio era quello cioè inserire gli undici giocatori che si ritengono migliori all'interno di un sistema di gioco che possa comunque dare delle garanzie partiamo da questo presupposto e poi dato che qualcuno potrebbe dirmi no guarda secondo me invece che tiz dovrebbe giocare sempronio eccoci qua queste sono le riserve eventualmente della juve considerando undici titolari quelli che abbiamo visto prima come potete vedere in campo ragazzi c'è una buona squadra stiamo parlando di chiellini danilo che ti è lì fuori le sceglie abbiamo visto che quest'anno ha fatto molto bene arthur uno come arthur ragazzi pensare che continua a essere un giocatore che potrebbe non essere titolare a tutti i costi dovrebbe farci capire che a centrocampo stiamo aumentando la qualità dopo anni di titubanza poi ci sono rabbio sandro che a me ancora continuano a non convincere c'è bernardeschi che fino adesso ha fatto molto bene quando chiamato in causa ken che non ha fatto bene fino adesso caio che non è mai stato preso in considerazione poi io ci aggiungo per impinsoglio che sono gli altri portieri tre ragazzi delle giovanili come devinter che tra l'altro ha avuto una lussazione alla spalla proprio in queste ore a che e sole che sono aggregate la prima squadra soprattutto a che e che potrebbero tornare utili nel discorso di turnover nel discorso di inserimento graduale per essere già un domani titolare della juve anche il fatto che vengano ceduti coluseschi che venga ceduto coluseschi con l'infortunio di chiesa dovrebbe farci capire che almeno uno tra sole e a che probabilmente più a che verrà inserito nella rosa della juve a questo proposito vi dico attenzione perché per la lista champions potremmo fare soltanto tre modifiche sono usciti ramsey coluseschi e bentancur e aggiungo federico chiesa per infortunio quindi chiesa rimane dentro perché tre sole modifiche potrai fare e verranno inseriti verosimilmente pellegrini zaccaria e vlaovic queste sono le mie previsioni per la lista champions dove non potrà inserire lista b proprio che potrà invece inserire sole che da gennaio ha completato l'iter per diventare calciatore inseribile lista b al pare di devinter quindi occhio che dovrebbe essere questa la composizione della lista champions con chiesa che verosimilmente rimarrà dentro anche da infortunato fino a fine stagione lo sappiamo bene e qualcuno qui potrebbe dirmi ma luca ma figurati se allegri comunque va a fare quella disposizione con morata esterno un po troppo offensiva poi morata quel ruolo non lo può fare allora vi faccio una domanda e ricordate gli undici giocatori di prima sì e se li metto giù così cosa cambia sono gli stessi undici giocatori identici stessa difesa semplicemente mckenny non è più sull'esterno viene a fare la mezzala locatelli fa la mezzala pure lui zaccaria volante davanti alla difesa morate di bala si allargano e vlaovic fa la prima punta e voi qua potrete dirmi probabilmente già meglio però scusami di bala esterno non dovrebbe giocare tra le linee di bala e allora io vi dico ci avete ragione pure voi e allora da quel 4231 che è il modulo base che abbiamo adottato fino adesso bene o male passando eventualmente al 433 in alcune partite come sul finale dell'anno eccolo qui il 433 vogliamo di bala per via centrali ma non c'è nessun problema di bala per via centrali ed ecco il rombo a centrocampo ci stiamo inventando qualcosa di nuovo direi proprio di no e sempre per tornare sul discorso massimiliano allegri io vi riporto un'altra formazione con cui abbiamo raggiunto la finale di champions che è la seguente un altro rombo questa è proprio la formazione di berlino qui morata tedes vi dà il finto trequartista centrocampo di altissimo livello la difesa quella lì e anche qui cambiano sì le caratteristiche dei calciatori perché pogba non è locatelli perché marchese non è mckenny perché zaccarina non è pirlo perché di bala non è vidal perché tevez non è vlaovic morata è morata e questo ve lo confermo perché evra non è pellegrini perché lich steiner non è quadrado quindi cambiano sì le caratteristiche dei calciatori cambiano ma l'idea di allegri no e cioè cercare di cucire addosso ai calciatori l'abito migliore a seconda dei calciatori che ha a disposizione e ora che abbiamo alzato la qualità perché possiamo permetterci di tenere fuori dei calciatori che difficilmente dovrebbero rimanere fuori in una squadra normale e l'abbiamo vista prima dalle riserve e avendo a disposizione quegli 11 lì che possono giocare col 4 2 3 1 col 4 3 3 col 4 3 1 2 è proprio qui che vi dico ragazzi occhio perché probabilmente non ci sarà uno schieramento di default perché questo ad allegri non interessa non è il numero è come viene approcciata la partita tra l'altro l'ultima volta che abbiamo visto il rombo con allegri è stato con ronaldo dove c'era ronaldo manzukic di bala dietro le punte insomma possiamo fare tanti esempi di formazioni che allegri in passato ha schierato e non è che si è fatto mai troppi problemi a dire o no di bala dietro manzukic e ronaldo troppo sbilanciati no lo ha fatto senza problemi come abbiamo visto prima o no non è che mettiamo quattro attaccanti siamo sbilanciati no perché manzukic semplicemente andava a fornire equilibrio aggiungo io aggiungo io che zaccaria è per la prima volta il centrocampista che allegri davanti alla difesa voleva da una vita perché negli anni che allegri allenato la juventus è stato prima pirlo poi marchisio e il profeta hernanes anche se vogliamo ci ha giocato pure lui poi è arrivato pianici quest'anno all'inizio lo faceva locatelli hernanes fatemelo togliere però sono quattro centrocampisti diversi rispetto a zaccaria che è un giocatore più strutturato più fisico più di equilibrio in grado di liberare da compiti difensivi altri calciatori di spingerli anche qualche metro più avanti per liberare un po più di fantasia come nel caso di locatelli ed è proprio la falsa riga del discorso di quando dicevamo perché non giocano artur locatelli perché artur davanti alla difesa liberava locatelli più avanti e la risposta è quasi sempre stata sì però artur non copre quella porzione di campo che coprono altri centrocampisti quindi siamo costretti a metterci locatelli insieme a un altro ora non è più così proprio perché la presenza di zaccaria e l'equilibrio che ti dà zaccaria ti aiuta tantissimo non vi sto dicendo che zaccaria è un fenomeno vi sto dicendo che aiuterà gli altri giocatori a rendere meglio e a farci trovare più preparati negli ultimi metri di campo come colleghiamo però tutto questo alla difesa 3 che avevamo fatto vedere inizio video uno se non due facciamo due due modi e cioè la salita alla volpiana che abbiamo già affrontato quest'anno in più di un'occasione e ve la faccio vedere semplicemente qua cioè i centrali si allargano il centrale di centrocampo si abbassa si muovono tutti gli altri di conseguenza e si va a riformare una sorta di 352 con dibala che va a fare il giocatore tra le linee sul verso il centrocampo l'ha fatto tante volte lo vediamo fare tante volte paolo dibala di abbassarsi per ricercare la qualità McKennie si alza e va a formare l'inserimento insieme a Vlaovic e Morata e quell'area di rigore riempita da Vlaovic e Morata McKennie inizia a diventare pesante con i cross che arrivano appunto da Quadrado e Pellegrini che era il motivo per cui dovevamo passare se volevamo a quella disposizione lì ed eventualmente anche Locatelli è più libero qualche metro più avanti proprio perché è Zaccaria che si abbassa tra i due centrali e solitamente perché avviene questo per cercare di creare la superiorità numerica nei confronti di squadre che giocano due punte e quindi se tu hai tre centrali e loro due punte sei sempre tre contro due crei superiorità puoi andare sulle fasce mettere il pallone in mezzo con McKennie che si inserisce insieme a Morata e Vlaovic e questa è una cosa che abbiamo visto fare quest'anno la Juve tante volte l'abbiamo vista fare al Bayern Monaco l'abbiamo vista fare a Guardiola una marea di volte una roba ragazzi che si fa sempre ed era la mia prima concezione di impostare a tre difendere a quattro di quando è arrivato Pirlo poi questo Pirlo non l'ha mai fatto effettivamente non so se per mancanza di fiducia in questo sistema o per mancanza di uomini non lo so Pirlo però cercava il famoso shift la famosa scivolata verso un terzino che diventava il centrale di rifesa e poi si muovevano tutti di conseguenza si formava una specie di 3 4 1 2 che poi abbiamo visto fallire perché forse si era chiesto troppo a quella squadra lì e forse Pirlo stesso non era pronto per improntare una squadra completamente su quel calcio lì infatti Pirlo poi fa un passo indietro e quel passo indietro ci permette di arrivare in Champions non focalizzatevi sul fatto che dovrà avvenire sempre ma questa è un'opzione di gioco che può funzionare sempre con quegli 11 di prima e sempre per andare a giocare comunque con una simile difesa 3 senza bisogno di inserire un difensore in più Chiellini ma inserendo un attaccante in più Morata perché il difensore diventa un centrocampista ed è sempre quel centrocampista difensivo guarda caso che ti dà quel equilibrio e quella sostanza in più queste cose funzionano eh le abbiamo viste fare una marea di volte sul campo da calcio e poi vi aggiungo la seconda opzione per giocare difesa 3 che vi ho anticipato prima una partita su tutte che ci ricordiamo e qua cito il buon Davon perché anche lui ha visto il suo le sue speedy tactics e anche lui ha preso in considerazione questa ipotesi e cioè Zaccaria come centrale di destra perché qualcuno potrebbe dire semplicemente però Bonucci mi gioca lì no Bonucci deve stare in mezzo Bonucci deve essere quello che imposta e allora c'è l'alternativa se non è salita la volpiana semplicemente Zaccaria va a fare il terzo centrale e anche qui qualcuno potrà dirmi sì vabbè Luca ma secondo te Allegri fa una roba di questo tipo ma calcio di Allegri è diverso è un calcio più normale più semplice sono d'accordo ma è lo stesso Allegri che ci ha mostrato questa soluzione e ce l'ha mostrato in Juventus Atletico Madrid 3 a 0 quando Emre Can andava a fare il terzo centrale con Pjanic Matuidi e Bernardeschi che se potete vedere da questa disposizione sono esattamente come li aveva messi prima Locatelli, McKennie, Dybala perché poi Bernardeschi Dybala sono quei classici giocatori che vengono liberati all'interno tra le linee sono quei giocatori che vanno a fare un po' dappertutto i tuttocampisti quando si parla di tuttocampista Dybala è sempre sembra quasi una roba negativa ma non lo è nel senso che certi giocatori devono avere la libertà non possono essere imprisionati negli schemi certi giocatori sono fantasiosi sono estro sono gioia sono giocate come fai a imprigionare Dybala in uno schema ma è tutti più grandi è difficile tutti i giocatori più fantasiosi è difficile imprigionarli e dirgli no fai così deve esserci l'imprevedibilità della giocata in questi giocatori qua e Bernardeschi in quella partita ha giocato una delle sue migliori partite con la Juve si è procurato pure il rigore girava un po' sull'esterno girava tra tre quarti girava per il centrocampo perché perché la squadra di Allegri è sempre una squadra allenata per principi di gioco e cioè i giocatori devono essere a loro agio e capire grazie ai suggerimenti dell'allenatore in panchina qual è il momento giusto per fare una determinata cosa e quando è il momento giusto per farne un'altra poi che possano esserci tutte queste soluzioni studiando gli avversari preventivamente perché questo lavoro che non si fa sul campo questo lavoro che si fa in settimana che si fa anche negli uffici guardando le clip della squadra avversaria cercando di capire come gioca una squadra come gioca un'altra dove soffre di più dove soffre di meno e allora quella squadra che magari soffre sulle fasce Morata e McKennie sono larghi quella fascia che soffre per vie centrali allora magari quel rombo ci sta quella squadra che magari nell'uno contro uno sugli esterni fa un po' fatica di bala una parte morata dall'altra con gli inserimenti dei Locatelli e McKennie nel 4-3-3 sono tutte situazioni di gioco è difficile oggi dire Allegri al 100% punterà su quel principio lì su quello schema lì su quel modulo lì no perché ogni squadra che andremo ad affrontare è diversa ma io vi ho fatto vedere che con questa Juve e con quegli 11 titolari più quelle riserve che entreranno nelle rotazioni cercheranno di scavalcare le gerarchie infortuni squalifiche covid c'è tempo per tutti tutte queste partite ravvicinate non so se avete dato un'occhiata al calendario di febbraio quanto è fitto secondo me ci siamo poi non sono qui a dirvi facciare il monte a scudetto perché purtroppo sono potenziali 14 punti dall'Inter 15 giornate sembra un po' bisogna volare bassi e per il momento tornare a ripuntare al discorso di intanto arriviamo tra le prime 4 poi vediamo cosa succede secondo me non succede lo scudetto lo dico nella più totale tranquillità come vi dico che secondo me non vinceremo la Champions però con questa Juve qua questa squadra qui ha il dovere ha il dovere di andarti a giocare tutte le partite con l'idea che le puoi vincere tutte anche internamente alla Serie A ora dovremmo giocare con l'Inter penso proprio che contro l'Inter allo Juventus Stadium con questa squadra si giocherà per vincere perché la potenzialità per farlo ce l'hai col Villareal si giocherà per vincere perché la potenzialità per farlo ce l'hai perché tanti dipingono Allegri come allenatore poco coraggioso per quel discorso di Tevez di quella sostituzione di Tevez ma il punto è che serve la vittoria servono i risultati Allegri ragiona in base di quello in funzione di quello è certo che tante volte è arrivata la vittoria in maniere un po' difensiviste un po' per usare un eufemismo ma la protezione del risultato con una squadra che lo sa fare ci sta io non sono dell'idea che questa squadra possa difendere il risultato ha maggior ragione adesso che sono entrati altri due nuovi giocatori che non hanno ancora ben chiara la concezione di calcio di Allegri e quindi per loro è più facile probabilmente andare comunque ed è qui che dovranno lavorare sia Zaccaria che Vlaovic è qui che dovrà lavorare Allegri per far capire che cosa vuole lui dalla squadra a livello di compattezza l'abbiamo un po' ritrovata ma secondo me non siamo ancora al top siamo lontanissimi da quelle Juventus che potevano veramente dire io adesso gol non lo prendo più e addormentava la partita noi siamo una squadra probabilmente che ha bisogno ha bisogno di osare un pochino di più e ora con Vlaovic lo possiamo fare perché se Zaccaria abbiamo detto libera Locatelli e McKennie da dei compiti un po' più difensivi lo stesso Vlaovic ragazzi va in aria e si prende un raddoppio se no una tripla marcatura Alvaro Morata è libero eh Paolo Di Bale è libero eh McKennie che si inserisce Locatelli che si inserisce ma sono liberi dopo gli altri è un po' come l'anno scorso con Ronaldo Ronaldo quanti uomini aveva addosso e allora arrivava Ronaldo e arrivava Morata arrivava McKennie e arrivava Chiesa e ci pensava loro magari a fare gol e questo è questa è un po' la mia idea di Juventus di Massimiliano Allegri d'ora in avanti con Vlaovic e Zaccaria fatemi sapere se intanto quello che vi ho detto secondo voi è logico se è coerente se può avere un senso e fatemi sapere se già dal Verona vi aspettate qualche mostra di questo tipo io sono sincero no nel senso che abbiamo Locatelli squalificato quindi Zaccaria potrebbe essere obbligato a giocare io mi immagino che Vlaovic giocherà non so se dal primo minuto o meno questo lo vedremo però inizieremo a vedere qualcosina ma non tutto ma per logica motivazione nel senso che non hanno ancora lavorato nemmeno una settimana insieme sarà un paio di giorni che lavorano insieme con Vlaovic e Zaccaria un giorno scarso quindi vediamo io però sono positivo perché vedo una linea da seguire e ora sta tutto nelle mani di Massimiliano Allegri perché qualcuno mi ha detto no però non puoi dire che ora Allegri non ha scusa perché no ragazzi questo è il punto la squadra ora c'è io sono stato il primo quest'estate a dire ma questa squadra non mi sembra niente di che invece io ora sono qui a dirvi che secondo me la squadra c'è è una buonissima squadra e cerchiamo di vedere che cosa può succedere da qui alla fine della stagione ma secondo me ricominceremo a divertirci fatemi sapere la vostra grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti